Una sconfitta per 25 punti di scarto con conseguente eliminazione al primo turno delle finali di Coppa Italia non può passare sotto silenzio, non per la debacle in sé ma per il modo in cui è maturata, una squadra senza il necessario carattere in grado di reggere solo un quarto contro un'avversaria certamente ostica come Tortona ma non sul suo campo bensì sul neutro di Iesi. Questa volta il mal di trasferta con sei sconfitte consecutive lontano dall'Almarena non può giustificare nulla perché ambientalmente si partiva alla pari, contava semplicemente chi aveva più fame, più voglia di vincere. Coach Dal Masson è il primo ad ammetterlo parlando di prova ingiustificabile ed è chiaro che lo staff tecnico sia sul banco degli imputati così come i protagonisti sul campo. Il presidente Gianluca Mauro che abbiamo sentito in mattinata si è preso un weekend di tempo per valutare a bocce ferme la situazione, non è rientrato ma è rimasto a Iesi proprio per riflettere sul da farsi dopo l'amarezza per l'uscita dalle finali di Coppa. Ieri però ha fatto pubblicare sul sito della società una lettera aperta ai tifosi in cui oltre ad aver promesso di risarcire i costi di trasferta al pubblico che ha seguito la squadra Iesi nonostante il maltempo, ha chiarito come si stia valutando quale strada prendere perché, citiamo letteralmente, giunti a un certo livello è necessario dimostrare di essere forti e sufficientemente maturi da raggiungere gli obiettivi. Il messaggio è chiaro, gli investimenti fatti devono portare a risultati, il risultato atteso e la promozione. Nella missiva aperta si chiede tempo al pubblico per trovare la miglior soluzione possibile. Viene rimarcato come pesante l'aspetto della sfacciataggine con cui è maturata la sconfitta. A volte, scrive Mauro, bisogna toccare il fondo prima di rialzarsi da soli. Altre è invece necessario agire immediatamente e porre dei correttivi. Per capire se e quali saranno bisognerà attendere qualche giorno. Grazie a tutti.